Tante polemiche in settimana sull'addio di Alessandro Del Piero, tu che idea ti sei fatto? Come hai visto Alex Del Piero? No, è sereno, è un campione, poi scelta societaria purtroppo... Scelta sua o scelta societaria? Non faccio parte della società, non sono nella testa di Ale, quindi non so. Io sono onorato di giocare con lui, per il resto non so cosa dire sinceramente. Andrea, tra qualche anno il tuo addio al calcio vorresti che lo comunicasse il tuo presidente o tu stesso? Ma dipende se ho voglia di smettere oppure no.